Mi parla la maggio del rato nazionale, la città repubblica, in luce parla agli italiani. Signore italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente richiede la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscevi. E' la voce che vi ha chiamato ad ascoltar, nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale. Stato che noi vogliamo instaurare. E' la voce che noi vogliamo instaurare. E' la voce che noi vogliamo instaurare.